Una tremenda strage in autostrada. Ci sono 16 morti e 37 feriti. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Il 23 agosto scorso si è verificato un tragico incidente che ha causato la perdita di almeno 16 vite e il ferimento di 37 individui. L'evento ha avuto luogo quando un autobus, trasportante principalmente cittadini venezuelani in movimento, è stato coinvolto in uno schianto su un tratto autostradale nella regione centro-meridionale del Messico. Le autorità statali hanno reso noto che l'incidente è avvenuto all'alba, precisamente al chilometro 91 dell'autostrada, in prossimità del confine tra gli stati meridionali di Oaxaca e centrale di Puebla. Tuttavia, il governo dello Stato di Puebla non ha fornito dettagli sulla nazionalità delle vittime, sottolineando che la maggior parte dei passeggeri era di origine venezuelana. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.